Gruppi di appartamento, 28 ottobre 2009. Con il termine gruppo di appartamento si intende solitamente parlare di quelle strutture di avvio all'autonomia per adolescenti in cui l'apporto dell'educatore è finalizzato prevalentemente alla promozione della capacità di autogestione nel gruppo dei pari come preludio all'inizio di una vita indipendente. Tali strutture riguardano minori di oltre 16 anni e spesso li accompagnano anche oltre la maggior età, qualora necessario per il progetto educativo, il regime di prosieguo amministrativo. Spesso si avvalgono utilmente di una cerchia di volontari che fanno da ponte tra la vita comunitaria e il futuro autonomo, costituendo una prima rete di relazioni amicali a cui appoggiarsi. Come per le comunità familiari, il fattore umano appare centrale e poco assoggettabile a schematizzazioni. Ciò si somma all'alta necessità di differenziare e adeguare alle caratteristiche personali di ciascun ospite il progetto educativo. Anche in questo caso è difficile individuare dei requisiti minimi. Si può spiccare almeno un ridotto numero di minori accolti, non superiore a 4, la garanzia della copertura economica dietro presentazione del progetto educativo per tutta la durata del prosieguo amministrativo, 21 anni. Per saperne di più, associazione culturale Universo Minori, universominori.meblog.it